Musica 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 Noi invece sono combate Nefoniche Gabriele Bianchi 178 Buonasera Ci siamo divertiti Quattro anni a metto in alto guido Le macchine di fuoco Siamo Chissà quanti ricordi Purtroppo c'è tanta gente Purtroppo migliettano bene Purtroppo ci sono anche risponde E vi faremo la pilota E' importante divertirsi arrivare al posto Bravissimo, perfetto Ci vediamo ragazzi Ciao Peno male che ci sia stato bene A parte che Gli appassionati di oreligi Avevano cittadino Ciao 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 Non la paga, chi la rivende? Ma non è avviso! La paga? No, vabbè chi la rivende? No, no! Quella è la partita di giro! Sì, l'abbiamo incontrato proprio con gli stessi e per gli anni. Tutti loro sono la settantodesima e i terzi in classe. Lui l'abbiamo incontrato proprio sull'asse a Prato, ma non vedono l'ora che aveva più pratica, non percorre. L'ho portato a casa un bel tempo. E qui c'è il cuore di regno. Ok.. Posa uützen! Sì scempidez, e lui fa cos'è l'ora di persona, Trammi! weldocca Era la grandečness, grazie